Eeeh che riscritti eccoci questo nuovo video di minecraft oggi mi trovo in una mappa creata da uno di voi Il creatore di questa mappa è Tommy Ferro e ha deciso di creare questa mappa perché? Perché gli andava e perché probabilmente voleva vedermi soffrire Prima che qualcuno di voi me lo venga a dire qui sotto nei commenti Sì le texture sono quelle vecchie soprattutto si nota dalla porta e dal cartello ma anche dal vetro lì dietro guardate Perché la mappa mi ha detto che l'ha dovuta fare in 1.12 per vari problemi tecnici in quanto il suo pc non supporta l'1.17 Ma a me sinceramente non interessa perché gioco tutte le mappe che mi fate Comunque oggi siamo in questa mappa e quindi guardiamo questa mappa Non mi è stato neanche detto il titolo però qui vedo subito un libro con delle regole Vediamo un pochino subito le regole che sono molte come possiamo vedere Regole della mappa non citare se vuoi fallo però non è divertente basta La domanda la vera domanda è game mod come game oddio non ci stanno neanche suggerimenti per i comandi Game mod come era 1 ok funziona torniamo in 2 non avete visto niente Quindi grazie Tommy per questa bellissima mappa Mi prenderò come sempre io un oggetto dalla cassa come portafortuna Qua leggiamo un cartello è inutile che provi ad arrivarci con la chest Non so perché mi è venuto spontaneo da guardare su però sì c'è una chest e non ci posso arrivare E' inutile che provi ad arrivarci con la chest cioè intende di usare questa chest per metterla qui e arrivare lì sopra Ma non posso romperla come dovrei fare ma ho la sensibilità troppo alta mi sa eh Sensibilità sistemata qua vediamo un'altra stanza con dentro un maiale Probabilmente sarà la skinna di Tommy vediamo un pochino Questa sì è la sua armatura di pelle dammi la testa Sì è la sua testa e quindi boh prendiamoci la sua roba sono Tommy adesso Tommy non sei felice pure il mantello della migrazione E qui dentro abbiamo un altro libro sempre con faccina che sorride vediamo cosa c'è scritto Ciao Ricky ciao Tommy a questo punto prendiamo anche questo verde E quindi qua non mi sembra che ci sia altro a parte questa stanza però ha una porta di ferro quindi non possiamo andarci chiaramente Vediamo cosa c'è scritto lì livello 1 credo siano i vari livelli quanti sono 5 livelli Ok e a questo punto dicevo vediamo qui ci sono delle pressure plate e qui dentro ce n'è un'altra Però queste sono di pietra proviamo a passarci sopra questa non fa niente Questa non fa niente e questa non fa niente Quindi vorresti dirmi che queste pressure plate non fanno niente come che cosa Aspettate forse ah no ci sta un blocco non posso farlo Pensavo di lanciare questo pannello di vetro attraverso qui sopra e farlo cadere lì Però però non posso Non mi viene in mente niente se non proprio quella che ha salito sopra Perché l'unica cosa che non abbiamo ancora visto è penso proprio che lì dentro ci sia una leva magari un pulsante Da mettere qui sopra per poter continuare L'unica cosa è che Tommy mi ha messo in adventure e quindi io non posso rompere o prendere nulla Non ho blocchi vero? Io a questo punto mi metto in survival ok Metto questo qui Arrivo alla cassa Non posso arrivarci ok si c'è la leva E c'è scritto effettivamente che può essere piazzata su lapis lazuli Ok la mappa quindi effettivamente è pensata come sopravvivente No come scusate avventura Perché vedete su questa leva c'è scritto che può essere piazzata soltanto su lapis lazuli block Però non capisco come sarei dovuto arrivare lì sopra Se ho sbagliato Tommy fammelo sapere Ma io in questo momento non ho la più palida idea di come avrei potuto fare ad arrivare lì sopra Magari qui c'era qualcosa che poteva servirmi Non mi sembra Non vedo casse nascoste o altro quindi E vabbè fammelo sapere Tommy se ho sbagliato oppure doveva essere fatto così Comunque quindi andiamo avanti abbiamo ottenuto questa leva Possiamo proseguire E vediamo qua ci sono quindi proprio 5 livelli No livello finale quindi sono 4 più il livello finale Ok ok E direi quindi di iniziare dal livello 1 Che cos'è? Parkour? Oh mio dio è parkour cosa c'è lì dietro? Spero non sia un command block che faccia qualcosa di strano Allora qua abbiamo tanti blocchi di netherrack E vediamo Possono essere pesati su magma block Tra l'altro non so se l'avete notato ma questa è la vecchia texture del netherrack Davvero molto molto forte Quella di adesso è più leggera è più Ma mi ha tolto tutta la roba dall'inventario No Tommy no Vabbè è molto triste come cosa Comunque vediamo qui c'è questo parkour E penso a questo punto di dover mettere la roba proprio lì Sui blocchi di magma Sui blocchi di magma sì Io direi a questo punto provo a farlo come un vero pro player Senza fermarmi Quindi tutto di una botta sola Però devo capire come continua Ok La 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 lì lù Ok perfetto Non è un buon inizio Questa pressure plate però non serve pure nell'inventario Quanto più per togliere i blocchi che piazziamo Guardate ho messo questi due Cado per sbaglio Oh mannaggia quanto sono scarso Guardate cosa succede appena respawno Li toglie Sarà difficile Sarà molto difficile Quindi tutto di una botta sola vai Ok No 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 Non così Pensavo fosse più semplice Ci riuscirò Prima o poi ci riuscirò Non così Ma ci riuscirò Sapete che c'è? Mi sa che lo faremo normalmente questo parkour noi Quindi così vai Due Tre Quattro Allora dicevamo non dovrebbe essere troppo difficile Certo che se poi io inizio a correre piazzo un blocco e gli altri no Diventa difficile Comunque facciamo così Salto Così Salto Così Salto Così qua dobbiamo stare attenti Salto C'è una barriera lì? Tommy hai messo una barriera? Tommy Non ci stiamo capendo noi Ma se hai messo una barriera Fa provare un po' a vedere se Hai messo una barriera Tommy Sei una persona davvero tanto spregevole lo sai? Eh? Ok Quindi abbiamo capito che Verso di lì Però il blocco lo devo prendere Verso di lì non posso andarci Perché c'è una barriera Lì ero shiftato però Minecraft Dai su Perché sento che questo video sarà più lungo del previsto? Allora vediamo qua Qui? No Ok non posso metterla Lì però sì Vediamo se riesco Perfetto Lì giù Credo che Non posso arrivarci E come devo fare allora? Salto? Assalto Ok ce l'ho fatta Sono fortissimo Vai Fatto Abbiamo finito questo livello Siamo Sono un pro player del parkour Andiamo avanti adesso E Ok mi ha dato un activation C'è una cassa LOL No Tommy no Quando sei all'inizio Buttati a sinistra E vai in fondo alla lava Quando sei all'inizio Buttati a sinistra E vai in fondo alla lava Quando Quando sei all'inizio Quando sei all'inizio Vai a sinistra E buttati in fondo alla lava Ok Va bene Tommy Va bene Hai vinto tu Mi hai trollato alla grande Andiamo avanti quindi con Ah quindi ecco a cosa serviva questo Una sorta di Zona di respawn Che figo Si chiude anche Fatta molto bene questa mappa Tommy A parte il troll Fatta molto bene Livello 2 Ah ok abbiamo una cassa Arco e frecce Vediamo un pochino Bisogna prendere Il villager che sta in quel villaggio Mamma mia i vecchi villaggi Nostalgia Nostalgia Prendiamo quindi quel pulsante Vai Ok troppo in alto Vai Preso Era il parkour il problema Quanto avete visto Livello 3 Cosa Non capisco Che cosa devo fare Ok credo di essere Molto confuso in questo momento Ah Cos Non ho capito Va bene Credo devo andare Veloce C'è tipo un timer Ah si vedete C'è questo timer qui Credo Vediamo un pochino Mettiamo il blocco qui Scusate Sull'erba Così Vediamo Dovrebbe qua partire il timer Si E' un timer Quindi è a tempo Io me la sto prendendo comoda Ok va bene Per fortuna io non sono Così tanto una pippa Perché gioco alle bedwars Quindi vai E invece lo sono Perché faccio pip Sono Faccio schifo Sono una pippa Vai ok Devo riuscirci Ce la posso fare Mamma mia Sono lentissimo Si Si Ce l'ho fatta Ok Era quanto pare Molto molto preciso Rompiamo il letto No Rompiamo il letto Basta Era una bedwars Così una mini bedwars Carina Abbiamo fatto anche il livello Tre Credo Sì Livello quattro Ok Questo mi sembra difficile Abbiamo fire resistance E una leva in testa Ok facciamo fitta di non averla vista Abbiamo uno stick Che può rompere la pietra La terra Abbiamo qua della terra Rompiamo la terra Abbiamo qua una pozza di lava Che non so cosa faccia Non c'è niente dietro la lava La terra non può fare nulla Se io vado nella lava Non muoio Giustamente Non posso neanche scendere Non c'è niente E allora dove sarà mai Quella cosa che mi serve Oh ma che cos'è che abbiamo lì in testa È una leva per caso quella Sì lo so Magari forse non avrei dovuto Vederla all'inizio Ho rovinato tutto Come al mio solito Va bene Comunque Leva la mano Andiamo avanti Ultimo pulsante No Cosa Ah ok mi toglie fire resistance Quindi adesso posso andare a morire nella lava E credo che poi sia finita Non lo so Dimmi di sì Ok è finita E adesso quindi ci resta soltanto Il livello Finale E quindi niente Andiamo a fare questo livello finale Lanciati nell'acqua della coltivazione Quella Quell'acqua Ci sono delle barriere che non mi aspettavo che ci fossero Comunque Ok Quindi Fatto Io sono un pro player mlggkpp E vai ok andiamo avanti Hai vinto E basta è finita la mappa Evviva Abbiamo finito questa mappa di Tommy Era fatta molto bene L'unica pecca se ti devo dire È che è molto corta Mi aspettavo qualcosa di più lungo Davvero Mi stavo davvero troppo prendendo Ora Come il mio solito Vero non ci sta l'f3 più l'f4 Contiamo quante volte sono morto Statistiche Vediamo un pochino Numero di morti 20 Sono morto soltanto 20 volte Quindi credo che non abbia fatto poi tanto schifo Comunque andiamo in creativa Anzi in spectator Così possiamo muoverci più liberamente E vediamo che questa era la mappa Quindi fatta in un mondo super piatto Niente di che Questo era del singhiozzo Me lo stavo trattenendo da quando ho iniziato il video Scusate E comunque vediamo che queste sono tutte le varie zone Questa è quella del parkour Va bene Però adesso io voglio farlo Il parkour Senza Cioè tutto di corsa Tutto di una filata Quindi Nether a calamano e via Ok Non è così che bisogna fare Quasi tutto di corsa L'ho fatto Niente male Niente niente male Ci riproviamo Perché no vai Ok Che ne dite se la smettiamo magari Di provare a fare queste cose Ci sono riuscito una volta Mezza volta Quindi basta così Non devo andare da quest'altra parte Comunque spectator E usciamo dalla mappa Comunque qua Questa cosa L'unica cosa che mi ha fatto rimanere perplesso È come sarei potuto arrivare a quella cassa Cioè se non ci fosse stato Il blocco che ho piazzato Lesso non ci sarei mai potuto arrivare Quindi Boh Non lo so Magari c'era qualcos'altro Che devo prendere Non lo so Non mi pare di vedere altro Qua non c'è niente Lo so Sto distruggendo la mappa Però nel senso Non c'è niente Quindi IDK Va bene In ogni caso Spero vi siete divertiti A vedermi giocare questa mappa Ditemi anche voi qui sotto Nei commenti Cosa ne avete pensato Di questa mappa A me come ho già detto È piaciuta non poco Non sopporto questa cosa Della Optifine Che quando sto shiftato Mi punta sui capelli Perché Io sto qui sopra Non c'è sto lì sotto Non qui sopra Ok Puttami bene Vabbè Problemi delle vecchie Optifine Detto questo quindi Tommy ricordati che sul mio server Discord adesso avrai Il ruolo content maker In quanto Beh Hai fatto del contenuto Per questo canale Quindi GG Vi ricordo che se anche voi Volete ottenere il ruolo Content maker Vi basta Niente po po di meno Che fare una mappa Oppure un qualsiasi altro contenuto Che può essere un resource pack Può essere una mod Può essere anche Boh Qualsiasi cosa che comunque Mi permetta magari Di farci un video sopra Lo so Potrei star sfruttando qualcuno Ma non è così Fidatevi di me In ogni caso Vi ricordo di entrare anche All'interno del server Discord In quanto è lì Che ci saranno la maggior parte Di notifiche Messaggi Avvisi Eccetera eccetera E oltretutto è lì Che verrà dato il ruolo Content maker E detto questo Se il video è piaciuto Lasciate un like Commentate Ed iscrivetevi Noi ci vediamo Alla prossima puntata Di Minecraft E ciao ciao Ciao